A Savignano allo Stadio Capanni si gioca l'ottava giornata di campionato di eccellenza a Girone C. Di fronte Savignanese e Barsanterno, le due squadre alla vigilia sono separate da un solo punto in classifica. 11 quelli rimediati dagli ospiti contro i 10 dei padroni di casa a frutto di 3 vittorie, 3 sconfitte e un solo pareggio contro 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte del Barsanterno. Abita la gara il signor Matteo Benini di Forlì, coadiuvato dalle mani Tumede e anch'essi della sezione di Forlì. La gara vede questo lancio in profondità a ceccare Pacchioni, l'attaccante in maglia numero 9 resiste alla carica di Zaganelli, arrivando al tiro che Sartiani accarezza deviando in corner la sfera. E' la volta di Osayand che da posizione di filata insidia Sartiani con un cross pericoloso che il portiere sbaraccia evitando possibili tap-in vincenti. Sull'altro versante arriva questa discesa di Aaron, traversone al centro per la corrente Mazzarini con relativo salvataggio sulla linea di porta ad opera della difesa ospite. I Vassanterno si vede in avanti con il tiro cercato e stoppato ad opera di Tumolo. Dal successivo angolo combinazione vincente da parte di Terzino Torsi del centrale Mongardi, pallone in buca, marrita annullata per posizione di offside. Vassanterno che mira nuovamente il bersaglio con esterno senese, Fusconi si rifugge in angolo. Dal conseguente corner mischia in area locale con un batti-ribatti conclusosi con un tiro a dimenticare ad opera di Tumolo. A quarantesimo l'episodio chiave che potrebbe sbloccare in match, Pacchioni affonda sulla sinistra penetrando in area di rigore venendo stoppato così da Zaganelli. Per Benini non ci sono dubbi, calcio di rigore per la Savignanese. Dal dischetto si presenta Turci che c'entra in legno a Sartiani spiazzato. Si chiude qui un divertente primo tempo, la ripresa vede la Savignanese partire forte con questo colpo di testa di Pacchioni che si spegne alto. Alto episodio da Moviola per il quale gli ospiti recriminano l'attraversione di Cavini portano un atterramento in area di Tumolo provocato da Zoffoli. L'arbitro sorvola. I Vassanterno rimane in area avversaria, Teo Di Valentini viene bloccato da Fusconi. Dall'altra parte combinazione tra Osagian e Zoffoli con risposta pronta di Sartiani. La replica degli ospiti a cura di Cavini, pallone che si spegne a lato. I gentili spazi concessi dalla retroguardia scaturiscono ancora occasioni. Zoffoli di testa conclude al lato con Cavini che si ripete invece dall'altra parte. I gol è nell'area, proprio gli spazi aperti permettono a Tumolo e Contropiede di entrare in area di rigore e di freddare l'estremo di casa a Fusconi. Palla, gioco ed incontro a favore del Vassanterno. Quell'attaccante capitano che ha qualcosa da dire a chi forse lo criticava o bersagliava ingenerosamente. Prova generosa al contrario la sua assieme a quella dei propri compagni. Ma la Savignanese ci prova fino all'ultimo nell'extra time e Osagliade a depositare di testa la sfera sull'esterno della rete. A fine gara il tecnico Montanari ha qualcosa da dire all'arbitro in base ai minuti effettivi giocati. Semplice osservazioni che si annotano in una partita ben giocata da ambedue le squadre con tanti spazi concessi da una parte e dall'altra.